20.000 mascherine di tipo chirurgico, 200 tute di isolamento e 200 monouso. In piena pandemia, Arzignano ha chiamato e la Cina ha risposto. È il 5 aprile quando la contea di Vujin, nella provincia di Ebei, arriva una donazione importante di materiale sanitario al comune arzignanese. Materiale in un momento in cui era difficile reperire mascherine e tute che l'amministrazione ha girato all'ospedale. Una vera e propria boccata d'ossigeno per il nosocomio. Un gesto importante, a testimonianza dello stretto rapporto tra territorio e la forte presenza di aziende cinesi. Un grande gesto di solidarietà, di generosità, da un paese lontano, ma che abbiamo sentito solidale e tanto vicino in un momento di difficoltà. Ed oggi, a distanza di oltre due mesi da quel 5 aprile, Arzignano vola, metaforicamente, in Cina, diventando protagonista con il suo primo cittadino, Alessia Bevilacqua, nella televisione cinese. Questa visita è a testimoniare la collaborazione che si è instaurata tra il comune di Arzignano e la città di Vugi in questo periodo di pandemia.